Buongiorno e benvenuti Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Super J. Oggi venerdì 10 novembre 2023, tante le notizie che andremo a sfogliare partendo dal nazionale, dai siti di informazione online che aprono con diverse novità, ovvero il sì di Israele alle pause umanitarie nel giorno in cui vengono pubblicati dei video di ostaggi presi da mass, ma anche il patto di stabilità e la stretta antiterrorismo in Italia. Andiamo a vedere subito su lanza.it la prima notizia che riguarda la guerra in Medio Oriente. Netanyahu Israele non cercherà di occupare o governare Gaza. Battaglia del comando di Hamas, nuovo video di ostaggi. Un arresto e un espulso stretto antiterrorismo in Italia. E poi pronto ecofin straordinario, alto là dell'Italia sul deficit. E poi le ultime ore. Netanyahu Israele non cercherà di occupare o governare Gaza. ha approvato in America il primo vaccino al mondo per il virus trasmesso dalle zanzare. E poi Borsa, Tokyo, apertura in calo, meno 0,62. Vediamo anche le prime pagine dei quotidiani nazionali. A partire dal Corriere della Sera, Israele, pause umanitarie a Gaza, il titolo di apertura. La Repubblica invece si concentra appunto sul nuovo patto di stabilità. Unione Europea, l'Italia resta sola. Le pensioni dei medici spaccano il governo. La Lega rinvia il taglio, la stampa. Invece dedica appunto la copertina al patto di stabilità. E poi appunto agli ostaggi il video che arriva dall'Israele. Israele dice no alla tregua. Queste le prime pagine dei quotidiani nazionali. Allora andiamo a vedere invece cosa si dice nella cronaca locale. partendo dalla prima pagina del quotidiano Il Messaggero Abruzzo. Autostrade, tariffe bloccate. Questo è il titolo con cui apre il quotidiano Il Messaggero. Riunione al MIT su A24 e A25. Niente aumento dei pedaggi ma per ora no ai ribassi. Caso a 14 malumori nella regione per il prolungamento degli interventi di due anni. All'Aquila, piazza del teatro in moto Le Ruspe, è iniziata l'installazione del cantiere. Mentre tangenti per la sanità pescarese, la maxiudienza dal 21 novembre. Poi la fotonotizia dedicata al calcio e alla Coppa Italia che si è disputata ieri sera all'Adriatico. Pescara-Pinetto, il Delfino batte di misura la squadra di Amaulo 1-0. Vergani regala al Pescara il derby di Coppa Italia. L'immagina appunto la gioia del bomber Vergani. Ancora incendio e ricatto. Imprenditore rischia il processo. All'Aquila estorsione per debiti di droga. Chiesto il rinvio a giudizio di un 52enne. A Roseto invece è maxi conto in banca con reddito zero, coppia sotto inchiesta. Andremo a vederlo anche sulle altre pagine dei quotidiani locali. Mentre di spalla, orsa marena, caccia vietata nel territorio dei due cuccioli. Il provvedimento che ci arriva da San Benedetto dei Marsi. E poi il taglio alto. Sempre a Pescara. Stop al Filobus. La tua sollecita la revoca dei passi Carrai. Mentre salute, chieti, l'ospedale sarà ristrutturato. In arrivo da Roma 60 milioni. A Pescara guarisce dalla leucemia un inaspettato ciclone. Lucia Villani aveva 12 anni quando iniziò il percorso terapeutico. Queste le notizie che ci arrivano dalla prima pagina del quotidiano Il Messaggero. Mentre nel taglio basso, per amore o per te, per il tempo, gli abruzzesi alla maratona di New York. E allora andiamo a vedere invece le prime pagine del quotidiano Il Centro. Partendo dalla pagina regionale, la pagina che riguarda l'edizione di Pescara, il Covid torna a minacciare i fragili. Questo è il titolo di apertura. Pescara preoccupano gli accessi in terapia intensiva e la ASL continua con il vaccinatevi. E poi ancora nella parte che riguarda invece la fotonotizia, si dedica ampio spazio alla Coppia Italia. In Serie C, Biancazzurri battono il Pineto nel derby. 1-0, Verganigol manda il Pescara agli ottavi. Di spalle invece le giornate AIRC. Lotta al cancro, ricercatore pescarese in prima linea. E vediamo appunto il ricercatore Gianluca Sala nell'immagine. Ancora i sindaci a Roma per l'A24 e l'A25. Niente a meno per i pedaggi. La stessa notizia abbiamo visto anche sulla prima pagina del quotidiano Il Messaggero. E sui cantieri dell'A14 appello ai prefetti. Lunghe file e protesta. E poi appalto menze. Ora è scontro politico. A Pescara e il centrosinistra subito un consiglio straordinario. L'assessore deve spiegare. Sempre a Pescara patenti sospese per l'autovelox. Via di sotto l'impianto contestato due anni fa. Arriva il conto. Mercato stradaparco da trasferire è polemica. Mentre a caso li ha ucciso la compagna, l'udienza è rinviata. Nel taglio alto piano contro le frane e le alluvioni. 7 milioni ai comuni più a rischio. E poi l'aeroporto punta sui voli per Canada e Sud America. Questa è la prima pagina del quotidiano Il Centro. Edizione Pescara. Noi ci spostiamo. L'edizione che riguarda Teramo e provincia. Qui il titolo di apertura è dedicato all'Ater. 32 alloggi riparati ma vuoti. Il caso delle palazzine di Via Adamoli finisce sotto esame in regione. Anche in questo caso la fotonotizia è dedicata chiaramente al calcio di Serie C. Al derby che riguarda Pineto. In questo caso nella provincia Teramana. Che esce sconfitto 1-0 dal Pescara. E poi Asle Teramo più soldi e più posti letto. Di Giosia in commissione regionale. Critiche d'Alberto. Il piano non penalizza l'ospedale. Nel taglio basso Roseto è l'operazione della finanza. Redditi da droga, sigilli ai beni. Sequestrati immobili e denaro di due rom residenti a Cologna. E in merito a questa notizia noi abbiamo approfondito con un servizio appunto la vicenda. Andiamo a vedere. Una dichiarazione di redditi completamente incongruente con il tenore di vita. E' sproporzionata rispetto al patrimonio fatto di ville, auto di grossa cilindrata, svariati terreni e conti correnti ben nutriti. Il tutto grazie ad un'attività conclamata di spaccio di sostanze stupefacenti lungo la costa terramana. Le indagini dei finanzieri della tenenza di Roseto degli Abruzzi guidati dal comandante Giuseppe Florio sono state articolate e mirate a scoperchiare tutte le proprietà di una coppia di ultra cinquantenni di etnia rom ma radicatissima da anni sul territorio terramano. I due, marito e moglie, erano già attenzionati delle forze dell'ordine in passato e già colpiti da alcuni provvedimenti scaturiti sempre da indagini delle fiamme gialle. Questa volta, nell'ambito di una complessa attività finalizzata al contrasto e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, durata un anno e mezzo, i finanzieri sono riusciti ad ottenere il sequestro e la successiva confisca di beni immobili dei due. Sono scattati i sigilli su un'abitazione da 180 metri quadrati tra Cologna Spiaggia e Giulianova su una Volkswagen Golf ora confiscata e concessa dal Tribunale in uso proprio alla tenenza di Roseto. La sezione misure di prevenzione del Tribunale dell'Aquila, constatata la pericolosità sociale degli stessi, ha disposto alla confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie ma anche l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale imponendo l'obbligo di soggiorno e il divieto assoluto di allontanarsi dal comune di residenza per i prossimi tre anni. Il Tribunale, inoltre, ha stabilito il divieto di detenere armi per la coppia e di associarsi abitualmente a persone che abbiano subito condanne o che sono state sottoposte a misure di prevenzione. Tra i beni confiscati, anche due terreni di 6.100 metri quadrati e depositi e conti correnti postali per un valore complessivo di circa 93.000 euro. E allora chiudiamo la prima pagina del Quotidiano Il Centro, edizione di Teramo, con le ultime due notizie. La prima ci arriva da Giulianova, investito dal tir mentre va in bici, 79enne e grave. Mentre a Teramo un rupo si aggira alla cona, i cinghiali a Colleparco. Queste le ultime due notizie della prima pagina che riguarda la cronaca Teramana. Per quanto riguarda Chieti-Lanciano-Vasto, invece il titolo di apertura è tutto dedicato all'ospedale, sì alla ristrutturazione. Chieti-Via Libera del Ministero al progetto che prevede due nuove palazzine. E poi nella fotonotizia la storia di Chieti nelle scuole, intesa Archivio di Stato Club Unesco, quindi in programma le iniziative con i giovani ai vari convegni. Stellantis-Fere più corte per il Natale. La testa ha siglato l'accordo per la chiusura di fine anno. Il lavoro c'è concessi 16 giorni. Compagno uccisa, l'uomo resta in carcere. Si parla ancora del delitto di Casoli. Slitta l'udienza. Salta il collegamento in rete a Londra per il killer. 74enne. Al Lanciano furto fallito, recuperate autorubata e sigarette. Mentre a Dortona feste in città da un milione. L'ANAC chiede chiarimenti. E allora andiamo a vedere anche l'ultima edizione, quella che riguarda l'Aquila-Vezzano sul Mona. Qui il titolo di apertura è dedicato al Natale sicuro. Aumenta la vigilanza. Accordo con i negozianti. Più pattuglie in centro dal 15 novembre. La fotonotizia invece inaugurati gli alloggi per i malati oncologici e i loro familiari. Nasce il rifugio dell'Aquila. Vediamo appunto l'immagine anche con il sindaco. L'Ater stacca il gas. Palazzi al freddo. Ad Avezzano debito da 200 mila euro per le bollette mai pagate. Disagi per 54 famiglie. La crisi in comune invece a Sul Mona nel taglio basso di Piero prova a restare. Il sindaco apre all'ipotesi di un azzeramento totale della giunta. Ad Avezzano invece Gigi D'Alessio in cattedrale. Un concerto per la pace. Nella Marsica caccia vietata per tutelare i due cuccioli di Amarena. Questo quanto ci arriva dalle prime pagine del quotidiano. Il centro allora noi torniamo a sfogliare ed approfondire il quotidiano Il Messaggero e ci spostiamo nella seconda pagina di cronaca regionale che è appunto dedicata alle autostrade al nodo A24 e A25. Tariffe bloccate ma per ora niente ribassi. Il MIT non varra la riduzione dei pedaggi, delusione della delegazione dei sindaci. Malumori anche per la proroga dei cantieri sulla A14 altri due anni. E appunto vediamo nell'immagine anche Marsilio. A Pescara invece la revoca dei passi Carrai per sbloccare la filovia. La tua chiede di fare presto. Tenere fermo il cantiere a costi elevati De Martini cercherà di stringere i tempi. Frattarelli invece dice c'è un rischio sicurezza per i 40 cancelletti pedonali su Pescara. E poi il Nobel Parisi a Pescara la conferma ad Alfonso. Vediamo anche nell'immagine. Covid, malavita, rogo in pineta, lascia una città amica dopo tre anni di sfide e risultati. Il brindisi dell'addio, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo durante il saluto di ieri sera a Palazzo dei Marmi. Vediamo anche le immagini. Ancora a Pescara, sanità, processi da riunire. Le difese pronte allo scontro. L'istanza sarà presentata il 21 nell'udienza del gruppo relativa al primo filone di inchiesta. Il PM si opporrà alla richiesta, Vincenzo Marinelli e Lorenzo Sospiri, tra le figure chiave. Questo ci arriva sempre da Pescara. Mentre Pescara metropolitana apre con il titolo che era anche presente nella prima pagina del quotidiano Il Messaggero Abruzzo. Guarisce dalla leucemia un inaspettato ciclone. La laurea e controlli clinici superati il suo grazie ai medici amate la vita. E appunto nell'immagine Lucia Villani si racconta della storia di questa ragazza. E poi, Fla, Laporta, Millanta e Violardone. Tra le star di oggi, incontri fino a sera. Si parla del Festival dei Libri e altre cose. E ancora, dalle materie prime, la cybersicurezza, le aziende locali, tra guerre e opportunità. Spazio ai autori locali, da Marianacci a Quieti, gli ospiti. E vediamo appunto nell'immagine. Ci spostiamo alla cronaca che riguarda l'Aquila. Qui il titolo di apertura è tutto dedicato ai lavori. Lavori bloccati da 15 anni. Scatto, occupazione, urgente. Due proprietari impediscono l'accesso ai tecnici per avviare la ricostruzione. I vigili urbani scorteranno i professionisti che al termine dell'intervento andranno via. E poi l'immagine, l'assessore Tinari aveva tentato una mediazione e anche la politica si è accapigliata sulla vicenda. Camion e fuoco per intimidazione. Imprenditore rischia il processo. Secondo l'accusa, il 52enne voleva l'esecuzione gratuita di lavori edili per pagare i debiti di droga. Ancora malati oncologici, foresteria, pettino. E poi neurologia continua ad attrarre pazienti. Si parla qui di salute, c'è l'equip di neurologia appunto in foto. Ancora l'Aquila, piazza del teatro e via Verdi. Il cantiere durerà un anno. Restaling urbano finanziato dal PNRR di saggi temporanei, ma la zona rinascerà. Il cuore della città cambia volto con lavori di ripavimentazione e riqualificazione. Un'esposizione poi su pittori, bedeschini, grazie a Munda, Univac e Fondazione. Questo ci arriva sempre nella cronaca aquilana. E poi violenza contro le donne, arriva il ministro Roccella. E a Tornimbarte invece tornerà il concorso La strada dei presepi. Al Maxi, secondo appuntamento con Glocarart, mobilità tribunale inaugurata la rastrelliera per le bici. E allora andiamo a vedere cosa accade invece nella Marsi, Cavezzano sul Mona. Ecco l'area funzionale urbana. Sul piatto 4 milioni a Palazzo di Città d'Avezzano, summit dei comuni del comprensiorio per coordinare i progetti. Dai trasporti al turismo con i soldi europei del GAL, mettendo da parte le scelte politiche e municipalistiche. Ancora la notizia che c'era anche nella prima pagina. Gigi D'Alessio è la star del concerto di Natale ad Avezzano. Offese alla nannarone, condannato a nove mesi. Questo accade a Sulmona, mentre a Castel di Sangro bar ristorante in un vagone ferroviario. Ad Avezzano sparatori e in discoteca i sospettati sono ai domiciliari. Mentre a Sulmona, Utic aperta di sabato, il primario con il suo virgolettato. E allora ci spostiamo nella cronaca che riguarda Chieti, che invece è tutta dedicata alla politica. Il titolo di apertura tra dissesto, dimissioni e indagini. L'incognita della durata di Ferrara. Il momento più difficile per il sindaco, le prese con le crepe, nella maggioranza. Sui rilievi dell'ANAC, la difesa di Liberi a sinistra, responsabilità degli uffici. Questo è il virgolettato e vediamo appunto nell'immagine il sindaco Diego Ferrara. Ancora nuova tegola, sul centro Filippone arriva lo stop del TAR. Mentre per quanto riguarda il policlinico, sì al piano da 60 milioni. Il ministero sblocca il megaprogetto per la nuova ala e l'ammodernamento di tecnologie e sale operatorie. Ancora l'archivio di Stato apre le porte grazie al patto con il club UNESCO. L'obiettivo, dice la direttrice di Rosangela Guerra, è promuovere e rendere fruibile il nostro patrimonio. Andiamo nella parte che riguarda Lanciano, Vasto e Ortona, bando della finanza per la nuova sede. Le fiamme gialle cercano casa. Dopo anni di tentativi a vuoto con le istituzioni, si apre una ricerca rivolta ai locali dei privati. Tramontata l'ipotesi di Palazzo Novecento, con Pupillo, il comune non ha spazi alternativi disponibili da proporre. Ad Ortona, invece, l'ANAC accende un faro sugli eventi del comitato. Mentre ancora l'omicidio di Casoli, a dicembre l'udienza appunto per il britannico 74enne. Ambasciatrice del Canada per il giorno della memoria, ad Ortona. Mentre si parla di regionali, di Campli, candidato Lascia, Lanciano, Fiera. Queste le notizie che ci arrivano dal Lanciano, Vasto e Ortona. Allora noi andiamo alla cronaca di Teramo, che apre con un articolo che abbiamo seguito. Si parla di PNRR, Melozzi, il teatro e l'anima della città. Il negozio sottosopra ricorre al TAR per evitare lo sfratto da Corso San Giorgio. Il Sindaco, noi andiamo avanti, faremo un hub culturale anche senza fondi PNRR. Su questa questione noi abbiamo seguito con le nostre telecamere la vicenda. Andiamo a vedere. Sindaco, è vero che sono a rischio i fondi PNRR per il Teatro Romano e il Teatro Comunale di Teramo? Non sono a rischio perché andiamo avanti con grande determinazione, sia sul Teatro Comunale, il Teatro Romano e il Castello della Monica, perché parliamo di un pacchetto che riguarda le tre opere. Si va avanti, intanto col finanziamento PNRR e stiamo combattendo con il governo una battaglia per far ripensare una scelta assolutamente sconsiderata da parte del governo nazionale che vuole spostare i finanziamenti del PNRR, dei comuni, alcuni diversi pacchetti di finanziamento, tra cui anche questi per coprirli con altre fonti di finanziamento. Mettendo a rischio, a repentaglio, non tanto il finanziamento e la continuità dell'opera, su cui noi andremo avanti e faremo battaglia, ovviamente, ma anche spostando su altri canali di finanziamento, creando anche una destabilizzazione. Potrebbero essere dei ritardi. Ritardi, difficoltà, problematiche per le imprese, una scelta totalmente sconsiderata, proprio perché i comuni, come il Comune di Teramo, ma è un problema nazionale, non è un problema della città di Teramo, ovviamente, hanno già firmato i contratti, hanno già aggiudicato le gare, i lavori sono pronti a partire, quindi una scelta che non ha alcun senso né politico né istituzionale. Nel caso specifico di Teramo voglio precisare che il problema non riguarda, in ogni caso, il teatro romano, che non ha una copertura PNRR. Noi stiamo andando avanti con una copertura diversa, che è il contratto istituzionale di sviluppo, che è il CIS, Sisma, che abbiamo ottenuto a Teramo, grazie a Legnini, al commissario Legnini e al loro presidente Conte, che ci consente oggi di andare avanti sul teatro romano con un altro canale di finanziamento. Dunque, l'unica opera che rischierebbe è il teatro comunale. Diciamo, è l'opera che è interessata da questa scelta senza senso da parte del governo nazionale, del governo Meloni. A noi andiamo avanti, non rischiamo nulla, procediamo perché l'opera si farà, però chiediamo assolutamente garanzie, assolutamente sul PNRR o comunque su altri canali di finanziamento. Questo quanto riguarda quindi il PNRR e tutte queste opere del centro Teramano, noi andiamo a vedere cosa succede nella cronaca Teramana. Pineto, metanodotto esploso, sentenza a fine mese. Mentre il lupo, segnalato nella zona della Cona, il bellissimo esemplare di lupo, fotografato mentre riposa appunto in questa zona. Molte segnalazioni anche di persone spaventate, ma non ha mai aggredito nessuno. Quindi anche a Teramo il caso di questo lupo. Nuovo piano del traffico, isola pedonale. L'ira dei commercianti lasciano l'incontro. Questo sempre nella prima pagina del quotidiano Il Messaggero edizione Abruzzo, che riguarda appunto la cronaca Teramana, mentre nel taglio alto Carabinieri, visita del generale Neosi a Teramo. Visita appunto il nuovo comandante della legione Carabinieri Abruzzo e Molise al comando provinciale. Ci spostiamo nella cronaca che riguarda la costa, Giulianova, Roseto, Val Vibrata. Ospedali, più reparti e posti letto, il virgolettato che arriva dal manager della ASL, Maurizio Di Giosia. Il manager parla di potenziamento con l'arrivo di macchinari con tacche robot da Vinci e di mobilità passiva in diminuzione. Il ruolo strategico di Santomero, Atri e Giulianova. Quindi ha parlato ieri il manager Maurizio Di Giosia davanti alla quinta commissione consigliare della regione sul nuovo piano della rete ospedaliera nel Teramano. Il caso Salinello ritarda la pulizia del fiume, paura e vediamo l'immagine appunto della zona interessata. A Roseto invece case terreni e conti in banca della coppia con reddito zero. Abbiamo già seguito anche con il servizio quanto accaduto ieri a Cologna. Arsita, vedova di 62 anni, si toglie la vita nella stalla. Il dramma raccontato in questo articolo. Poi la gara Giulianova, Tirreno Adriatico, tappa in Mondovisione. Giulianova punta a ospitare il giro, la notizia che abbiamo dato anche all'interno dei nostri notiziari sportivi proprio in serata. A Giulianova ancora oggi l'addio all'ex maestro elementare, l'immagine appunto dell'ex maestro investito ad Ancona. Allora ci spostiamo allo sport con cui chiudiamo partendo dalla prima pagina dedicata al derby chiaramente tra Pescara e Pineto. Vergani risorge, derby al Pescara. Un gol del Bomber, finora ai margini, permette al Delfino di battere 1-0 il Pineto. Nel prossimo turno di Coppa Italia la sfida a Latina. Gara davanti a pochi intimi, quindi poco pubblico per il secondo turno di Coppa Italia. Mercorelli fa mea culpa per quanto riguarda il Pineto, ero fuori. Il Pineto saluta la Coppa Italia e Daniele Amaulo accetta l'eliminazione con assoluta serenità. Nel taglio basso invece le dichiarazioni dell'altro tecnico, Zeman. Abbiamo fatto bene, ora sotto con il campionato. Tra l'altro c'è stato un ampio turnover per le due formazioni e quindi adesso si concentreranno sul campionato. Passiamo invece alla Serie D. L'Aquila, un trittico da paura per il nuovo tecnico Roberto Cappellacci, ovvero esame di maturità. Si comincia domenica a Fossombrone, poi a Vezzano e San Benedettese. Carbonelli decisivo nel successo interno contro il Sora, penso già al derby. Conosco bene quanto è importante. E poi il basket di Serie B. Chieti penalizzata di un punto, scatta il ricorso. Anche questa notizia è stata data all'interno dei nostri notiziari. E per quanto riguarda appunto i nostri notiziari, io vi ricordo che alle 14 avremo modo di approfondire con il J-Sport anche tutto ciò che riguarda il derby. Appunto tra Pescara e Pineto vi mostreremo le immagini di questo 1-0, di questo secondo turno di Coppa Italia. E a me non rimane che augurarvi una buona giornata. Vi invito a rimanere collegati con le nostre dirette che ritorneranno a breve, prima con Formattino, alle 9 con una nuova puntata di Accolazione. Almeno rimane che augurarvi una buona giornata. Grazie. 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 Grazie.